2 ottobre 2005, oggi festeggiamo un anno di attività del Bingo VIP di Viale Strasburgo. Festeggiamo con una grande estrazione il primo vincitore, l'unico vincitore, un grande premio per lui offerto da Bingo VIP, 3 kg d'oro e un viaggio a Santo Domingo. Grazie. 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 Vingo Vip oggi compie un anno. Il tesoro è stato estratto, ma le sorprese non finiscono qua. Se pensate che la festa sia finita, vi sbagliate. Ancora per voi tante altre feste, ospiti importanti e tanti regali. Vingo Vip, le sorprese non finiscono mai.